Ritorniamo in onda in Voce delle Chiese, continuiamo la nostra puntata di oggi, proseguiamo con le notizie e gli aggiornamenti e direi che adesso posso dare il benvenuto al nostro ospite, al pastore Gabriele Bertin che è qui con noi. In questo caso l'abbiamo invitato come presidente del Comitato Italiano della SEVA. Ciao Gabriele, benvenuto. Ciao Daniela, ciao a tutti e a tutte. Allora, la SEVA intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che cos'è? È un organismo internazionale che rappresenta varie comunità di fede tra cui anche la Chiesa Valdese, ne fa parte anche la Chiesa Valdese. Esatto, è una, appunto, la sigla è la comunità di chiese in missione, è un insieme, una comunità appunto di chiese che nascono dallo scioglimento delle società missionarie di Parigi. Sì, esatto. Recentemente sono stati festeggiati i 50 anni di questa comunità che nasce proprio con la prospettiva di cambiare e rompere un po' un'idea di missione. L'idea di rompere quell'idea che c'era la missione dal nord verso il sud, dai paesi ricchi verso quelli poveri, dai bianchi verso le persone di qualsiasi altro colore, per creare appunto una comunità che fosse circolare, che fosse uno spazio dove ogni persona con le sue specificità, il proprio vissuto, la propria spiritualità, contribuisse a un progetto più grande. Esatto, dei progetti che possono essere condivisi. Uno dei motti della Seva è... Partagere pur agire. Esatto, condividere per mettere in pratica quello che abbiamo, che possiamo imparare anche gli uni dagli altri in modo vicendevole. Esatto. E in questo momento raccoglie circa 35 chiese sparse su 25 paesi di tutto il mondo, dai quattro continenti, quindi è poi organizzata in zone, quindi ci sono varie zone dell'Africa, l'Europa, l'America Latina e sono appunto chiese con un pezzo di storia in comune ma che poi si è diversificata tantissimo e che nonostante le differenze riescono a stare insieme appunto in questa comunità che ormai festeggia più di 50 anni. E che recentemente ha avuto un momento di incontro, perché hai partecipato tu insieme al pastore William Jordan all'assemblea, giusto? Esatto, la dodicesima assemblea generale, che è appunto il momento di incontro dei e delle rappresentanti, delegati e delegati di queste chiese che si svolge ogni due anni, una volta in una zona solitamente dell'Africa, l'altra volta in un'altra regione, tendenzialmente l'Europa e appunto è un momento di incontro ma anche e soprattutto di decisione, valutazione e programmazione delle attività, dei progetti da portare avanti. In questa assemblea che tra l'altro era la prima in presenza da cinque anni. Eh già, perché c'è stato il momento della pandemia, quindi ha bloccato un po' gli incontri in presenza. Sì, c'è stata l'ultima in presenza a Douala in Camerun nel 2018, una online nel 2021 e questa era la prima in presenza appunto in Costa d'Avorio ed è stata quindi anche un'occasione per rincontrarsi ma anche per vedere la novità, perché in questi anni tanti delegati e delegati sono cambiati e cambiati. C'è stata una nuova segretaria generale eletta proprio nell'assemblea del 2021, quindi era la sua prima assemblea generale come segretaria appena entrata ed è stata un'occasione ricca anche proprio per rivivere la gioia dello stare insieme nelle diversità, nelle differenze. Sono tanti i progetti che la SEVA porta avanti, ci sono tantissimi progetti legati ad esempio alla salute, ne abbiamo parlato sovente, insomma il grande progetto Solidarité Santé che ha avuto anche dei contributi dell'Otto per Mille delle nostre chiese valdesi e metodiste, ma ci sono anche progetti di formazione, ci sono progetti legati ai giovani, insomma davvero molto variegato l'ambito di lavoro su cui si muovono le chiese. C'è qualcosa che a te insomma tocca in modo particolare? Ma a me colpisce sempre proprio anche la diversità di progetti che vengono proposti dai vari paesi, perché credo che siano ogni paese, ogni chiesa e portatrice di un percorso e anche forse di una progettualità differente. In questa assemblea generale è stata tra l'altro lanciata, diciamo proposta una nuova, si chiama Action Comune, una specie di tematica che però sia anche qualcosa di concreto, sulla quale le chiese sono invitate a riflettere nei prossimi cinque anni e quella di questa assemblea, il titolo era Abitare in maniera differente il creato e quindi una riflessione tutto sull'urgenza ecologica, il cambiamento climatico e come questo appunto colpisca in maniera diversa anche le chiese stesse, i territori dove sono le chiese stesse della Sevà. E quindi questa tematica sarà poi una di quelle che nei prossimi anni accompagnerà i momenti anche di incontro dei giovani, delle giovani, dei formatori teologici, delle chiese membro della Sevà. E per me la Sevà la cosa sicuramente più bella e più importante che mi ha lasciato e che mi continua a insegnare è il lavoro con l'animazione teologica, con il confronto col testo biblico e credo che proprio in contesti così diversi per vissuti ma anche per teologie questa metodologia sia veramente utile perché in un certo senso permette di abbassare le difese e di favorire proprio un incontro alla luce di un qualcosa di comune come può essere la parola biblica. In passato abbiamo avuto modo già di parlare dell'animazione teologica che in effetti è uno dei pilastri della Sevà. Ci avevano ricordato insomma gli ospiti di qualche anno fa come fosse davvero un po' al centro del concetto della riflessione biblica, partendo proprio da un'animazione teologica si riusciva a raggiungere più facilmente anche proprio dei concetti di riflessione, di approfondimento biblico. E cogliamo l'occasione per ricordare Gabriele che ci sarà un nuovo appuntamento perché ciclicamente vengono organizzati dei seminari dedicati all'animazione teologica. Sì, allora in particolare ne è stato organizzato uno da parte del Comitato Italiano nel 2019 che era un seminario proprio di conoscenza dell'animazione teologica come metodologia per tutte quelle persone che magari non la conoscevano o che hanno poi scoperto che tante metodologie che già usiamo sono parte dell'animazione teologica che alla fine ha come scopo quello proprio di... prima dicevo che la seva rompe questa idea di missione dal nord al sud, credo che l'animazione teologica rompa quell'idea che c'è chi sa e chi deve ricevere, e l'idea di mettersi proprio assieme a capire come una parola risuona in maniera diversa nelle vite di ognuno e di ognuna. Quindi questa esperienza del 2019 che fu fatta a Casa Cares, poi si voleva non troppo in là proporne un'altra purtroppo la pandemia ha impedito questa possibilità e quindi adesso nel 2024 verrà proposto un altro weekend di lavoro sull'animazione teologica ma questa volta facendo un passo in più, nel senso che se l'altra volta era conoscere l'animazione teologica e sperimentarla, questa volta si vorrebbe lavorare su un tema specifico partendo però dalle metodologie dell'animazione teologica e in particolare il tema è quello della missione perché è una parola cara alla seva ma è anche una tematica sulla quale la seva da diversi anni chiede alle chiese membro di riflettere. Un nuovo ragionamento. Un nuovo ragionamento, come è cambiata il progetto missionario della chiesa ma anche forse come è cambiata l'idea di missione e quali sono anche tutte quelle altre parole che spesso si associano a missione e vengono magari usate come sinonimo quando non lo sono eccetera quindi l'idea è proprio prendersi un tempo per incontrarsi e riflettere su questa parola che alla fine è l'infa vitale delle nostre chiese, della nostra chiesa nazionale ma poi di ogni singola chiesa in Italia e nel mondo e quindi il progetto è proprio avere una tematica da cui partire attraverso metodologie di animazione teologica, lavoro in gruppi e la presenza di due ospiti diciamo che vengono da altri paesi che porteranno la loro testimonianza, la loro, la riflessione loro e delle chiese dove loro in questo momento servono come ministre, qual è il progetto missionario come è cambiata, qual è la direzione verso cui sta andando di modo che anche noi partecipanti possiamo farci anche stimolare chiaramente non è il luogo, non è la settimana sulla missione è forse un inizio, un sassolino che si lancia perché poi si possa continuare questo ragionamento anche sul locale certo, certo, quindi qualche informazione pratica, hai detto già 2024 ma forse ci sono già delle date e un luogo? sì, dall'1 al 3 marzo a Casacares si ritorna in centro Italia vicino a Firenze esatto ma chi può partecipare? Chiunque? chiunque, diciamo l'invito è esteso a tutti e tutte coloro che hanno piacere, interesse e curiosità anche di mettersi in gioco su questo tema e con questa metodologia chiaramente i posti di Casacares sono limitati però l'invito è veramente a tutte le persone che hanno piacere e interesse di iscriversi lo possono fare scrivendo poi al pastore Michel Charbonnier attraverso la mail di tutti i pastori e la cosa che ci tengo a dire è il costo nel senso che per questo progetto come anche per quello del 2019 è stato chiesto un finanziamento alla SEVA come dicevi tu prima progetti anche di formazione e quindi c'è stato dato questo finanziamento che ci permette di coprire in base ai partecipanti che Casacares può contenere di coprire una gran parte dei costi quindi il costo per ogni partecipante è di 30 euro vitto alloggio e spese di viaggio per i tre giorni per i tre giorni è veramente molto basso sì, perché abbiamo pensato proprio l'idea è di favorire la partecipazione chiaramente se le persone si organizzano magari insieme però abbiamo pensato che anche i viaggi che di questi tempi sono diventati una parte importante dei costi fosse anche importante riuscire ad abbatterli un pochino per permettere una maggiore partecipazione quindi quei 30 euro sono una cifra che simbolicamente contribuisce al progetto del seminario ma al progetto anche della SEVA in generale quindi speriamo che sia proprio un incentivo per tanti e tante a farsi incuriosire da questo incontro quindi io ribadisco questo appuntamento di cui parleremo ancora prossimamente adesso il pastore Gabriele Bertin ce l'ha un po' diciamo introdotto ma ci sarà modo anche magari per entrare un po' più nel dettaglio ricordatevi l'appuntamento iniziate a segnarvelo in agenda dal primo al 3 di marzo 2024 a Casa Cares in Toscana bellissima peraltro struttura delle nostre chiese con il seminario di animazione teologica proposto all'interno dei progetti della SEVA quindi in bocca al lupo insomma buon lavoro al comitato italiano ma in generale a tutta la SEVA e grazie per essere stato con noi tra l'altro c'è un appuntamento importante per l'Italia anche per la SEVA giusto? è il 2025 quindi tra due anni tra due anni la prossima assemblea generale sarà in Italia e sarà l'ultima che si terrà ogni due anni perché proprio questa assemblea in Costa d'Avoga è stato deciso di farla ogni quattro anni quindi fra due anni ancora non sappiamo dove ma sarà l'Italia che ospiterà la tredicesima assemblea generale della SEVA e questo è un altro bel obiettivo, un altro bel traguardo che ci vedrà insomma impegnati grazie Gabriele per essere stato con noi buon lavoro a te ovviamente, a tutta la SEVA e soprattutto all'equip del comitato italiano grazie mille